Questa è la prima pietra del ponte sullo stretto di Messina. Non sono sicuro che sia l'originale perché ne esistono a decine di tutte le epoche e quindi non esiste una vera prima pietra del ponte sullo stretto e tutte quante comunque valgono quanto questa. Sono solo una promessa, una fantasia, una millanteria politica, perché non è mai stata posata una seconda pietra e quindi di prime pietre ce ne sono tantissime e se ne è ormai perso il conto, ma la seconda ancora nessuno l'ha vista. La prima promessa di costruire il ponte sullo stretto risale agli anni 70. Che cosa avete capito? Gli anni 70 dell'Ottocento, del secolo scorso, 1870, un secolo e mezzo fa. Il governo Zanardelli promise di unire Sicilia e Calabria passando sopra o sotto il mare, ovvero con un ponte oppure con un tunnel. Erano gli anni della rivoluzione industriale, c'era una fede illimitata nel progresso e tutto pareva possibile, compreso l'impossibile. 20 anni dopo il terremoto e maremoto di Messina, 80.000 morti, sconsigliarono di costruire ponti da quelle parti. Anche il cavaliere Benito Mussolini disse che il ponte si sarebbe fatto per maggior gloria della nazione, ma la cosa non ebbe seguito perché nell'agenda politica del fascismo c'erano altre priorità, invadere l'Albania, spezzare le reni alla Grecia e si sa che la guerra è un'opera pubblica piuttosto costosa. Passano gli anni, i bimbi crescono, le mamme imbiancano e nel 1981 il governo Forlani istituisce la società stretta di Messina con il compito di realizzare la prestigiosa opera. Per vent'anni la società lavora al progetto ma non ne rimane traccia percepibile. Bettino Craxi nel 1988 annuncia che il ponte sarà sicuramente realizzato entro il 1998, ma anche lì dopo un po' non se ne ha più notizia, non se ne sa più niente. Nessuna traccia del ponte a meno che il modellino che Berlusconi portò a porta a porta nel 2004 fosse il frutto paziente del lavoro ventennale della società stretta di Messina. Sapete come quelli che costruiscono i modellini delle navi con i fiammiferi? Ci vogliono tempo e pazienza. Nel 2008 il governo Prodi blocca il progetto perché non ci sono soldi. Due anni dopo Berlusconi torna al governo e annuncia che il ponte sarà fatto, anzi rifatto perché lo aveva già fatto direi personalmente sei anni prima a porta a porta. Ne riprendo fiato perché è lunga. Nel 2012 il governo Monti dice di nuovo che non ci sono i soldi e mette in liquidazione la nuova società che Berlusconi nel frattempo aveva istituito e che si chiamava Eurolink. Ma nei giorni scorsi il governo in carica ha rilanciato l'idea, anzi ha proprio detto il ponte si farà. C'è dunque una nuova prima pietra identica a questa già pronta a Roma sulla scrivania del ministro dei trasporti Salvini, noto esperto di ingegneria. Il costo stimato di tutto il ponte e non solo della prima pietra e di tutto il ponte è intorno ai 4 miliardi di euro, secondo calcoli meno ottimisti potrebbe raddoppiare. Si sa come funzionano i preventivi in Italia. Per ristrutturarti il bagno ti chiedono 10, tu sai già che alla fine saranno 20. In attesa degli eventi le vere notizie comunque sono due. La prima è che gli unici a costruire effettivamente il ponte sullo stretto furono i romani durante le guerre puniche, almeno secondo Plinio il Vecchio, che scrisse che i romani fecero un ponte di barche per far passare gli elefanti sequestrati ai cartaginesi. Per fortuna Berlusconi non legge Plinio il Vecchio altrimenti avrebbe portato a porta a porta un elefante. La seconda notizia è che per andare da Palermo a Ragusa, quindi da Sicilia a Sicilia con i mezzi pubblici ci vogliono 12 ore, esattamente come al tempo dei cartaginesi. Concludendo, i ponti sono opere meravigliose, spesso molto belle da vedere, comunque bellissime per la loro funzione che è unire, avvicinare. Ma all'esatto contrario dei ponti sono le promesse a vuoto. Le promesse a vuoto rappresentano appunto il vuoto. Allargano la distanza tra le due rive, la riva delle parole e la riva della realtà. È il famoso tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Mi piacerebbe essere il primo che passa dall'Italia alla Sicilia in tre minuti percorrendo il nuovo ponte e dedicando il trionfo della tecnologia agli elefanti di Annibale. Ma prima di mettermi in coda voglio aspettare almeno la posa della seconda pietra, non per sfiducia ma per esperienza.